Israele ha tutto il diritto di difendersi e ha diritto di esistere, anzi il dovere di esistere e tuttavia l'idea di sparare addosso ai caschi blu io credo che sia assolutamente fuori dalla realtà. Credo che sia un gravissimo errore disconoscere l'ordine internazionale, sia grave aprire un braccio di ferro tra Israele da solo da un lato e tutta la comunità internazionale dall'altro, soprattutto considerato che chi sta subendo questo attacco è un paese come l'Italia che con tutti i suoi difetti ha sempre tenuto una posizione di sostegno nei confronti di Israele. E dunque perché isolare Israele da tutta la comunità internazionale? Perché aumentarne l'isolamento? È così che si fa l'interesse di quel paese? Io ne dubito grandemente, penso sia un errore molto grave di questo governo di destra che c'è in Israele, guidato da Netanyahu e avversato da moltissimi israeliani ed è proprio di questo che voglio parlarvi oggi che è l'11 ottobre 2024, io sono Ivan Scalfarotto, questa è la versione di Ivan e noi andiamo a incominciare. Io sono Ivan Scalfarotto e questa è la versione di Ivan, una storia al giorno, dal lunedì al venerdì, rigorosamente dal mio punto di vista. Mi rendo conto che è un giudizio severo, ma se vogliamo parlarci con franchezza dobbiamo dirci purtroppo che le Nazioni Unite non servono a un granché. Sono nate da un'intuizione e da un'intenzione nobile, quella di evitare un terzo conflitto mondiale dopo che il secondo aveva sconquassato il pianeta con le decine di milioni di morti, con la Shoah, con le bombe atomiche in Giappone. E quindi l'idea di mettere tutti i paesi del mondo in un solo posto fisico a parlarsi per evitare che scoppiasse un nuovo conflitto, magari ancora più disastroso del secondo, era certamente una buona idea. E tra l'altro l'ONU si era anche data degli strumenti, la possibilità di intervenire in particolari scenari, ma poi alla fine tutto questo è rimasto largamente sulla carta. Un po' perché, come sappiamo, il Consiglio di Sicurezza poi non ha funzionato granché. Questo meccanismo del potere di veto attribuito ai cinque grandi, la cui scelta fotografava l'assetto post bellico, ha comportato una sostanziale paralisi dell'organo esecutivo delle Nazioni Unite, perché possiamo dire che non si riesce praticamente mai a decidere niente, c'è sempre qualcuno che alza la manina e quindi blocca quelle che sono le decisioni più importanti. E poi sappiamo anche che la maggioranza degli stati non è sempre incline, non ha sempre l'atteggiamento giusto, anche perché gli stati non è che siano sempre governati dalle democratiche maggioranze scelte dal popolo in modo illuminato. Spesso chi si incontra alle Nazioni Unite rappresenta autocrazie, dittature, teocrazie che portano anche a decisioni paradossali come quella, che so, di far presiedere il Consiglio dei Diritti Umani all'Iran. E devo anche sottolineare che nella maggior parte dei casi le Nazioni Unite con tutti i torti che può avere se la prendono sostanzialmente con Israele, se guardiamo il numero di decisioni prese dalle Nazioni Unite contro Israele, sommano quelle che sono state prese dalle Nazioni Unite contro, che so, l'Iran, la Corea del Nord e altri posti del genere che riescono sempre più o meno a cavarsela, mentre invece Israele risulta essere il target preferito dall'Assemblea Generale e delle Nazioni Unite, anche da singoli organismi delle Nazioni Unite, perché in quei consessi i paesi che guardano Israele con sospetto, o peggio ancora, con odio, costituiscono la maggioranza. E poi, appunto, dicevo che nella Carta delle Nazioni Unite ci sarebbero anche gli strumenti per intervenire in particolari situazioni, ma sappiamo che non sempre hanno funzionato, anzi hanno funzionato spesso con modalità, diciamo, del tutto insoddisfacenti. Ricordiamo tutti il massacro di Srebrenica nel 1995, quando l'assassino di massa, che poi il Tribunale Penale Internazionale qualificò come un vero e proprio genocidio, si consumò in quelle terre così vicine a noi, avvenne di fatto sotto gli occhi dei caschi blu che non intervennero. E devo dire, anche la famosa missione Unifil, di cui stiamo parlando molto in queste ore, avrebbe dovuto garantire che in una fascia di 30 km dal confine tra Israele e Libano, anzi, la linea blu, come si chiama più correttamente, ecco, che sotto il fiume Leonte, in questi 30 km, non ci fossero milizie irregolari. Invece sappiamo che Zbollah non soltanto ha occupato quei territori, ma che da quei territori, da quella fascia che avrebbe dovuto essere smilitarizzata, ha, in questi anni, in questi decenni, attaccato continuamente il nord Israele, tant'è che, appunto, in questo momento ci sono decine di migliaia di israeliani che sono sfollati dalle loro case perché, appunto, gli attacchi sono stati continui, nonostante, appunto, la presenza delle truppe Unifil, tra le quali ci sono più di mille italiani. Quindi, sicuramente, grandi perplessità. Io stesso ho espresso pubblicamente, prendendomi anche molte critiche, i miei dubbi sull'attività dell'UNRWA, che è l'organizzazione delle Nazioni Unite che lavora a Gaza. Io avevo proposto che non ci fosse più un'organizzazione delle Nazioni Unite specifica per i palestinesi, ma che l'alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, che lavora sui rifugiati in tutto il mondo, potesse occuparsi anche dei rifugiati palestinesi, perché è evidente che i rapporti tra UNRWA e Hamas sono diventati sempre più stretti e quindi le Nazioni Unite a Gaza non hanno un ruolo terzo, riconosciuto come tale, indipendente, come le Nazioni Unite dovrebbero avere. Ma insomma, questo fa parte di tutte le critiche che si possono legittimamente fare le Nazioni Unite. Quello che non si può fare, però, dal mio punto di vista, è sparare addosso ai caschi blu. Questa è una cosa che va sicuramente esclusa. E infatti, ieri io sono uscito in appoggio alle dichiarazioni del Ministro Crosetto, perché credo che Netanyahu abbia superato una linea rossa, nel senso che, ripeto, la risoluzione 1701 non è stata rispettata, il contingente ONU non è stato in grado di fare tutto quello che avrebbe dovuto fare, sebbene il lavoro di mediazione tra le parti, il lavoro anche di assistenza alle popolazioni locali sia stato naturalmente compiuto, e sappiamo che i soldati italiani sono spesso riconosciuti per la loro capacità in questo tipo di attività di peacekeeping. Però, qualsiasi siano le critiche che si vogliano fare le Nazioni Unite o che si voglia fare in particolare a Unifil, alla missione e alle truppe che ci sono sul territorio, quello che sicuramente non si può fare è sparargli addosso. E io credo che Netanyahu stia facendo una serie di passi che alienano tra l'altro il supporto a Israele anche dai propri alleati. Ora, sul governo Meloni si può dire tutto e sulla sua politica estera si può dire tutto, io lo faccio spesso, però c'è da dire che il governo italiano non si è mai sottratto rispetto a un appoggio a Israele e al suo diritto di difendersi. Il governo italiano non si è schierato come altri governi, per esempio, europei, come la Spagna, come l'Irlanda, per un riconoscimento immediato dello Stato di Palestina. Ha tenuto una posizione, io credo, sempre molto equilibrata. L'idea di sparare addosso ai soldati italiani mi pare francamente molto bizzarra e anche molto negativa, non mi pare che Netanyahu aiuti il suo paese aumentando nell'isolamento internazionale. Possiamo prendere ad esempio di questo tipo di attività, io credo, nefasta il rapporto pessimo che c'è tra Netanyahu e Biden. Ora, se gli israeliani non curano il rapporto con gli Stati Uniti, io credo che ci sia un problema. E c'è un problema, francamente, di gestione di tutta questa crisi, va detto in modo molto chiaro. sapete bene che io sono amico di Israele e c'è un episodio di questo podcast, quello di lunedì scorso, che dice quanto io tenga anche all'amicizia che provo per Israele. Però io penso che il governo di Netanyahu stia agendo male, che stia sbagliando, che in questo caso con l'attacco alle truppe Unifil abbia sbagliato molto pesantemente ed è proprio il caso di ribadire che una cosa è Israele, una cosa è il suo governo, una cosa sono le destre che comandano adesso in quel paese. Io mi fermo qui, noi ci sentiamo domani. Avete ascoltato la versione di Ivan, un podcast di Ivan Scalfarotto ispirato dall'omonimo libro edito dalla nave di Teseo. Ciao! 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 Ciao!